Amici del canale buongiorno, buon primo ottobre a tutti voi, un caro saluto affettuoso da parte mia. Oggi è il giorno di Bayer Leverkusen, Milan ore 21 in Germania alla Bayer Arena. Ovviamente c'è tanta attesa per questo secondo match europeo del Milan. Approfondiremo il tema delle presenze, delle assenze, della probabile formazione della squadra di Paolo Fonseca ma voglio affrontare insieme a voi anche un altro tema. Ieri come avete visto non ne ho parlato perché ho provato prima a capire la situazione. Situazione molto molto grave e delicata. Mi riferisco all'indagine sulla questione delle curve, il tifo organizzato, a questa inchiesta che ha avuto effettivamente una risonanza mediatica mondiale che ha scosso il mondo del calcio. Non ne ho parlato prima perché volevo cercare di capire un attimo la situazione. Qui davanti a me ho un pdf di 568 pagine. Quindi non è una cosa che si può affrontare con leggerezza. Ho un'ordinanza del Tribunale di Milano di 568 pagine con tutti i nomi delle persone coinvolte ed arrestate e tutte le intercettazioni sono tantissime e lunghissime. Ovviamente non faremo in tempo in questo video a ribadirle. Faccio una panoramica generale perché comunque ribadisco 568 pagine di pdf del Tribunale di Milano. Ordinanza su richiesta di applicazione di misure cautelari. Tra l'altro sono 18 gli esponenti della curva di Milano e Inter arrestati in questo blitz. Tra le varie cose si parla anche di un patto di non belligeranza tra le due tifoserie per massimizzare i profitti illeciti dai parcheggi alle bevande dentro lo stadio. Per quanto riguarda la tifoseria del Milano va detto questa cosa che non è stata riconosciuta l'aggravante di un avvicinamento alla criminalità organizzata cosa che invece è stata riconosciuta per quanto riguarda la curva dell'Inter ma anche lì sono presenti forme di violenza comunque molto gravi e comunque per quanto riguarda la curva dell'Inter è emersa questa cosa di una telefonata da parte del capo ultra o di uno degli ultra dell'Inter addirittura a Simone Inzaghi l'allenatore per mettergli pressione per ricevere dei biglietti per la finale di Champions League e poi addirittura è stato anche chiamato per scuotere l'ambiente per dire svegliati, per modificare la formazione, per giocare addirittura con due punti insomma cose abbastanza serie ha dovuto subire Simone Inzaghi ma nessuno da parte del club nero-azzurro ha mai denunciato la cosa questo è anche da dire le indagini tra l'altro hanno evidenziato che la società dell'Inter si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della curva nord fa emergere questa indagine clamorosa e ribadisco sono tantissime le intercettazioni 568 pagine da parte del Tribunale di Milano alcuni fatti sono gravi poi naturalmente ragazzi noi ci occupiamo di calcio giocato qui si parla di cronaca giudiziaria, di cronaca nera e probabilmente non siamo neanche esperti nel settore per parlare di questi argomenti è chiaro che sono fatti totalmente da condannare sia lato Milan che lato Inter è anche vero che molte cose si annusavano nell'area non c'era bisogno di un'indagine così specifica per capire che qualcosa non funzionava correttamente ma l'intervento da parte appunto degli organi specializzati in questo settore è stato forte tra l'altro Viola, il procuratore di Milano ha spezzato anche una lancia a favore delle due società di Milano e Inter diciamo così apparentemente ostaggi di queste dinamiche delle curve le società sono da considerarsi parti danneggiate quindi è stato creato un danno a Milano e Inter secondo il procuratore di Milano Viola siamo certi che dalla collaborazione che vorranno prestare per la soluzione di eventuali criticità il due club si potrà arrivare a qualcosa di positivo quindi c'è anche un virgolettato da parte del procuratore di Milano tra l'altro il Milan si è detto subito disponibile a collaborare in merito alle indagini che coinvolgono esponenti delle tifoserie organizzate il club rossonero si è immediatamente reso disponibile a collaborare con gli inquirenti per fornire qualsiasi documentazione e informazione richiesta quindi il Milan non ha evidentemente nulla da nascondere c'era sì un rapporto con la curva ma perché la curva è vicina al club la curva vive insieme al Milan allo stadio San Siro in trasferta quindi è normale che ci fossero rapporti però è chiaro che qui si parla di qualcosa di oltre di un semplice rapporto e il Milan si è detto disponibile a collaborare con qualsiasi documentazione in merito alle indagini quindi il Milan ha fatto un passo avanti tra le varie cose che è venuta fuori nelle varie intercettazioni c'è anche un dialogo tra alcuni esponenti della curva sud del Milan dove una parte della curva sud voleva spingere il club a puntare su Antonio Conte mentre un altro esponente della curva del Milan aveva fatto il nome di De Zerbi e c'è questo dialogo tra le parti in cui però emerge una cosa che ad aprile, tra aprile e maggio la curva del Milan ha spinto per puntare su Antonio Conte però alla fine il Milan non ha ascoltato queste richieste tanto è vero che poi ha prima contattato Lopeteghi e poi Fonseca in effetti Conte non è mai stato un vero e proprio obiettivo per la panchina del Milan insomma possiamo concludere dicendo che sono delle situazioni davvero brutte e spiacevoli ed è una brutta pagina per il calcio delle tifoserie milanesi veniamo al Milan, veniamo alle cose di campo veniamo alla formazione di questa sera perché è stata annunciata una scelta importante Fonseca ha annunciato già ieri sera in conferenza stampa che Morata molto probabilmente non giocherà questa sera perché sta bene se consideriamo che non ha infortuni tant'è vero che si è allenato ieri è stato convocato, è in Germania potrebbe giocare nel corso della partita magari nel secondo tempo ma il Mian non lo vuole rischiare perché già Morata ha stretto i denti contro il Lecce ha giocato con questa borsite al ginocchio è uscito al sessantesimo contro il Lecce ribadisco non ha problemi gravi altrimenti non veniva convocato e altrimenti non si allenava con il Mian ma semplicemente non vuole essere Fonseca non vuole rischiare Morata e per questo al suo posto giocherà Loftucic quindi la scelta è fatta Loftucic al posto di Morata vediamo se oggi si cambierà idea come era successo contro il Lecce ma difficilmente credo accadrà perché si è esposto pubblicamente Fonseca ha detto è difficile che possa giocare lo spagnolo davanti quindi c'è Ebram con Loftucic nel ruolo di numero 10 a sinistra Leao a destra Pulisic attacco comunque molto offensivo a centrocampo Fofanaco Reinders mentre in difesa dovrebbe aver vinto il ballottaggio Calabria su Emerson Royale attenzione c'è anche un rientro il rientro di Pavlovic dopo due esclusioni di fila perché Pavlovic non ha giocato né il derby e né il match contro il Lecce però di fronte c'è un giocatore forte come Boniface e quindi probabilmente anche dal punto di vista fisico c'è bisogno di un gigante come Pavlovic che possa marcarlo meglio Teo Hernandez a sinistra ha confermato così come importa Mike Mignani insomma sono queste le scelte per il match di questa sera io vi ringrazio sempre per l'attenzione vi invito ad iscrivervi al canale YouTube fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di tutto quello che abbiamo detto in questo video un abbraccio a tutti attivate la campanella e mettete like al video ci vediamo dopo ciao